Ragazzi, tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta male per via del fatto che adesso che inizia la nuova edizione del Mercantinfiera il ruolo della gatta nera verrà fidato ad un'altra ragazza, presumibilmente più giovane. Perché dico presumibilmente? Perché, caricato di presentare la trasmissione in questione, ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Sono rimasta più male forse per quello perché oggi come oggi vedere che ci sono persone che hanno, anche loro, un'età importante, ma queste persone che siano rimaste legate a questi antichi retaggi pensando che le donne a 40 anni ancora oggi sono vecchie, è inammissibile. Vi dico una cosa ragazzi, per me, ma non lo dico tanto per dire, adesso che ho 40 anni sono ancora più belli, 40 sono ancora più belli dei 30 e sono ancora più belli dei 20. Voi mi chiedete perché? Perché oggi come oggi io ho una consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano e che mi premevano quando avevo 20 anni, sicuramente non le ho più ora. La donna moderna non deve più preoccuparsi di non apparire bene perché oggi come oggi abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre proprie idee, non viviamo più suggiocate dai maschietti e tutta questa situazione di benessere della cui possiamo godere oggigiorno noi donne sicuramente è andato a giovare il nostro aspetto fisico e anche a livello mentale. Quindi siamo più radianti, quindi io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai, quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io veramente pretenderei delle scuse come minimo. Comunque mi vedete, sto bene, la vita è bella. Ah, è un in bocca al lupo per la nuova gatta nera. Ah, è un in bocca al lupo per la nuova gatta.